E vediamo ora l'aggiornamento sugli insetti dannosi per le pomace. Carpocapsa. È presente ancora un 10% di uova che deve schiudere. Tutte le uova sono state deposte. Le larve nate vanno da un minimo dell'88% a Malborghetto, Quartesana, Poggio Renatico, Ospital Monacale ad un massimo del 95% a Santa Maria Codifiume, Mesola e Bondeno. Il volo è in calo e va dal 55 al 75%. Abbiamo sempre circa 10 giorni di ritardo rispetto all'anno scorso e al momento si prevede che manchino ancora circa 8-10 giorni per l'inizio dell'incrisalidamento della nuova generazione. Pandemis. Dai primi del mese è iniziata la nascita larvale che ha raggiunto valori che vanno dall'8 al 25%. Le uova deposte superano il 60-70%. Il volo è in calo. Eulia. In settimana inizia il nuovo volo degli adulti. Da metà a fine settimana ci sarà l'inizio della deposizione delle uova. Al momento si prevede che a metà della prossima settimana inizierà la nascita larvale. A te Paolo. Gli insetti che caratterizzano questo periodo non sono nuovi, li abbiamo già visti per tante settimane e sono ancora una volta la carpocapsa per prima. Carpocapsa che sta lentamente completando la sua prima generazione, una generazione che si sta prolungando a causa dell'andamento stagionale particolarmente avverso all'epidottero. Chi si trovasse ad aver superato ancora soglia oppure vedesse del danno sui propri frutti facendo i controlli o rilevasse la presenza di uova ha ancora la necessità di intervenire. I prodotti che indichiamo sono essenzialmente due. Il primo è il virus della granulosi al quale andiamo a dare come alternativa il clorpirifos etile. Ricordando che il clorpirifos etile ha un effetto collaterale su altri insetti quali ad esempio la cocciniglia per cui verrà impiegato qualora ci fosse presenza di migrazione ma è poco selettivo per quello che riguarda l'antocoride. Introduco a questo punto il secondo insetto di cui andiamo a parlare, la psilla, che non è diffusa allo stessa maniera in tutto il territorio ed anche nell'ambito della stessa azienda ha una distribuzione che non è uniforme per cui richiede dei controlli un pochettino accurati anche se la presenza poi è piuttosto visibile. Diciamo che in quegli appezzamenti o in quelle aziende in cui il problema esiste e sta creando melata per cui si rischia di andare ad imbrattare i frutti e non rileviamo nemmeno la presenza di antocoride possiamo avere la possibilità di andare a intervenire ancora una volta con insetticida. L'insetticida di riferimento è l'abamectina, può essere usata due volte nell'arco dell'annata e si avvantaggia molto, ove è possibile, dell'associazione con olio bianco. Qualora non fosse possibile utilizzare questo olio bianco perché siamo in vicinanza di prodotti che sono incompatibili, quindi potrebbe essere il captano o comunque anche lo zolfo, andiamo ad utilizzare bagnanti specifici come ad esempio il breakthrough. In casi in cui invece la psilla è meno presente o abbiamo l'ausilio dell'antocoride possiamo ricorrere a dei lavaggi ricordando che il segreto per la riuscita di un buon lavaggio è soprattutto il volume di acqua, quindi utilizzare una quantità adeguata di acqua in proporzione all'impianto che andiamo a trattare e possibilmente operare nelle prime ore del mattino quando presumibilmente poi seguirà una giornata di sole e la melata in questo momento è meno concentrata e quindi più facilmente lavabile.